Viareggio, carnavale di viareggio 2023 estivo 5 carni di prima categoria e uno di seconda torneranno all'aperto con una riproduzione del circuito del viareggio all'aperto A completare questa splendida festa in giardino, le decorazioni del carnavale di viareggio fai da te La sera prima vengono ripuliti i carni del carnavale di viareggio 2023 In caso di alcuni danneggiamenti per riparazioni in cui si sono corrosi in questi 4 mesi E' il giorno della prima serata, il primo luglio del carnavale di viareggio 2023 I sei carni sono pronti a sfilare Buon divertimento! Ad aprire questo corso speciale della sfilata straordinaria del carnavale di viareggio estivo 2023 E' il carro Goodbye Blue Sky, l'amore vince su tutto Seconda categoria dei fratelli Breschi Carro vincitore della seconda categoria fai da te Quattro vincitore dei fratelli Breschi Carro vincitore dei fratelli Breschi Carro vincitore dei fratelli Breschi Sta arrivando il carro di Prima categoria Una storia fantastica di Jacopo Legrucci, secondo premio della Prima categoria, in questo corso speciale del carnevale estivo. La Prima categoria 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 La Prima categoria